si è svolto a palazzo turati a milano l'incontro tra il presidente della giunta regionale lombarda roberto maroni di rappresentanti lombardi di rete imprese italia si tratta dell'associazione che riunisce le organizzazioni dell'artigianato e del commercio realtà che raccolgono buona parte del tessuto produttivo regionale i responsabili di rete imprese hanno illustrato la situazione delle piccole e medie imprese della lombardia in profonda difficoltà dopo anni di stagiazione dei consumi interni baroni ha confermato di voler intraprendere un percorso di dialogo con tutte le realtà produttive riconoscendo il valore intrinseco di rete imprese italia c'è già un primo appuntamento in calendario per giovedì 19 dicembre al pirellone si discuterà dell'applicazione della nuova legge sulla competitività che sarà varata il giorno primo dal consiglio regionale contiene importanti novità di fisco credito alle imprese e semplificazione della burocrazia